Si sentiamo bene. Posso salutare tutti allora, tutti i miei compaesani e non compaesani. Li voglio salutare proprio con affetto. Guardate, io stasera avrei dovuto essere lì, volevo essere lì, ma non è stato possibile, insomma, perché ho avuto dei problemi e allora hanno preferito dire di non stare a casa. E questo mi dispiace moltissimo, perché io sono affezionato al mio paese che voi manco lo sapete, lo potete immaginare. Guardate, io ho girato, ho fatto tanti concerti nel mondo, però i concerti più belli per me erano quelli fatti a Refrancola, che mi davano l'emozione e adesso io penso di essere lì con voi, anche se non è vero, ma io ci penso lo stesso. E poi voglio dirvi una cosa, io 90 anni fa, 90, ne avevo tre anni allora, per la prima volta, proprio lì nel cortile delle scuole dove ho fatto tutte le elementari, per la prima volta, tre anni ho suonato uno strumento musicale, il tamburino, io ero piccolo, ero un cazzo di formaggio grossi e allora non posso non ricordare queste cose, sono troppo importanti per me e vi abbraccio tutti e dico arrivederci, io avrei voluto suonarvelo, non rivederci, è una bellissima canzone di Timbi, però a quest'ora non posso sonnare, la donna vi abbraccio e vi dico buon concerto e arrivederci, ok? Grazie mille, 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 gra